Siamo lodati Gesù e Maria. State per assistere, amici carissimi, a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi. Prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione. Se possibile, ovviamente al termine della visione, mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo. Queste piccole operazioni non costano nulla ma possano essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale. Fatelo, ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime, quanto state per ascoltare. Io vi benedica, è la Santa Vergine che protegga. Laudentur, Iesus et Maria. Siamo alla quindicesima puntata, amici del ciclo di catechesi dedicato al mistero di Giude Scariota. Come tutti quanti sappiamo questo ciclo di catechesi si basa sugli scritti della mistica italiana, Maria Valtorta, da cui è stato tratto il volume che stiamo seguendo per approfondire l'inquietante mistero dell'apostolo traditore. Se ci ricordiamo la volta scorsa ci siamo lasciati con Simone Lozerota che era tutto quanto stupito perché Giude aveva avuto uno dei rari momenti sì, momenti up, in forza dei quali Gesù, cogliendo l'occasione, aveva anche spronato a non anticipare giudizi troppo frettolosi, cosa che riguarda ovviamente Giude, ma che è estendibile anche a noi sulla nostra consueta abbastanza facironeria e facilità nel giudicare, sparando un po' troppo facilmente a zero. E chiaramente Gesù aveva concluso dicendo mi raccomando, no perché Simone aveva rodato Giude per il discorso che gli aveva sentito fare davanti ai vari sedi, mi raccomando non gli dire niente perché è una nea molto debole, per cui se comincia a dirgli che bravo che sei stato questa è la fine perché si scoraggerà o meglio si gonfierà e quindi si vanificherà il suo cammino. Le considerazioni fatte nella puntata precedente le lasciamo, alla puntata precedente, adesso vediamo questo nuovo paragrafo che dal titolo è già abbastanza emblematico, è sconfortato ma persiste nelle buone intenzioni. Non anticipo nulla, cominciamo la lettura, il paragrafo anche questo non è molto lungo, però è molto istruttivo ed edificante. E' l'aurora del giorno dopo, presso la porta ancora chiusa della città Gesù che è sempre con Simone e Giovanni occupa il suo tempo ammaestrando venditori in attesa e gettando luci di verità nell'animo di un militare romano di nome Alessandro che lo ha salutato e mostra di avere ammirazione per lui. Finalmente arrivano Giuda e i pastori. Pace a voi tutti dice Gesù e vorrebbe dire altro ma una giovinetta esile ma ridente fende il gruppo e gli si butta ai piedi. La benedizione tua ancora su me maestro e salvatore e il mio bacio ancora a te. E gli bacia le mani. Va, si lieta, buona, buona figlia, poi buona sposa e poi buona madre. Insegna ai tuoi pari con i futuri il mio nome e la mia dottrina. Pace a te e a tua madre. Pace e benedizione a tutti quelli che sono amici di Dio. Pace anche a te Alessandro. e Gesù si allontana. Abbiamo fatto tardi ma ci hanno assediato quelle donne spiega Giuda. Erano al Gezzemani e volevano vederti. Noi eravamo andati senza sapere gli uni degli altri là per fare con te la strada ma tu eri già andato via e invece c'erano loro. Le volevano lasciare ma erano più insistenti di Mosch. Volevano sapere tante cose. Hai guarito la fanciulla? Sì. E hai parlato al romano? Sì. È un cuore onesto e cerca la verità. Giuda sospira. Perché sospiri Giuda? Chiede Gesù. Eh, sospiro perché vorrei che fossero i nostri quelli che cercano la verità. Invece o la fuggono o la scherniscono o restano indifferenti. Sono sfiduciato. Ho voglia di non rimettere piede qui e di non fare altro che ascoltare te. Tanto come discepolo non riesco a fare nulla. E Gesù risponde. È interessantissimo. E credi tu che io riesca molto? Non ti sconfortare Giuda. Sono le lotte dell'apostorato. Più sconfitte che vittorie. Ma sconfitte qui. Lassù sono sempre vittorie. Il padre vede la tua buona volontà. E se anche questa non ti riesce, ti benedice lo stesso. Oh, tu sei buono. Giuda gli bacia una mano. Ma io diventerò mai buono? Sì. Se lo vorrai. Credo di esserlo stato in questi giorni. Ho sofferto ad esserlo perché ho molti appetiti. Ma lo sono stato pensando sempre a te. Persevera allora. Tu mi dai tanta gioia. E voi che notizie mi date? Elia ti saluta e ti manda un poco di cibo e dice di non dimenticarlo. Oh, risponde Gesù. Ma io ho nel cuore i miei amici. Andiamo fino a quel paesero nel verde. Poi a sera proseguiremo. Sono felice di essere con voi, di andare dalla madre, di aver parlato della verità ad un onesto. Sì, sono felice. Se sapeste che è per me fare la mia missione e vedere che ad essa vengono i cuori, ossia al padre, o come sempre più mi seguireste, con lo spirito, non vedo altro. Non vedo altro. Poi chiaramente il testo riprende. Il discorso non è finito. Chiaramente questo è un libro composto per collageno, quindi non coincide con gli episodi, evidentemente, dei capitoli dell'opera. Però noi cogliamo occasione da questo stacco per fare uno stop e per cominciare a cogliere alcune suggestioni da quanto appena letto insieme. Allora, la prima cosa è il sospiro di Giuda, perché il sospiro c'era allora e va sicuro che il sospiro c'è anche oggi. L'ho raccontato tante volte anche nell'esperienza pastorale di un sacerdote. Purtroppo, qui c'è anche sullo sfondo il milite Alessandro, io lo ricordo molto bene perché è una delle figure belle di questo testo. Un soldato, quindi un soldato romano, quindi un uomo di armi, un uomo di guerra, possiamo immaginare come era l'ambiente militare da allora. Insomma, questi non è che giocavano a soldatini, poi non è che stavano come oggi i missili, le cose, cioè le armi da fuoco. Cioè, fare la guerra allora era proprio scannare la gente davanti agli occhi, quindi immergersi nei bagni di sangue, insomma, quindi anche con una prestanza fisica non indifferente, quindi evidentemente con un cuore anche un po' bello, bello, bello pieno di corazze, insomma, di cortecce per trovarti in certe situazioni. Non è una idea che ti può mettere a fare troppo con troppo il filosofo o avere troppo il cuore eterno sui campi di battaglia. Eppure quest'uomo proprio a testimonianza, che tu puoi avere qualunque stato di vita, qualunque tipo di lavoro, qualunque stazione sociale, qualunque situazione, ma se la tua mente continua a rimanere sempre lucida, quindi si fa le giuste domande, cerca la verità in altre cose, che è la cosa assolutamente fondamentale, la disposizione che il Signore cerca nei cuori degli uomini, sicuramente ti metterai in cammino e sicuramente intercetterai la grazia che ti previene ovviamente in questo cammino e oltre a soccorrerti e ti guarda con animo di compiacenza. E Gesù era una storia bellissima con questa persona che ogni volta che lo incontra piano piano a piccole dosi lo instrada, gli dà gli input e questo farà un bellissimo cammino. Ma questo era un pagano, questo era un lontano. Giuda dice c'è questo, vedi, questo che sta cercando la verità e i nostri, dice, la fuggono, la scherniscano o restano indifferenti. Giuda non aveva fatto il parroco, ma chi ha fatto il parroco con queste cose riferite a tutti i giorni, purtroppo. Cioè, tu vedi i cosiddetti che sono già dei nostri, che sono già persone che più o meno frequentano, principalmente di questi tempi, che anziché essere le prime ad essere ricettive sono quelle che dinanzi a tante cose o fuggono o scherniscono o restano completamente indifferenti. Completamente indifferenti. Lo raccontavo tante volte, questa era terza parrocchia dove mi trovo, nella prima ci ho fatto il seminarista, il diacono, il viceparroco per due anni, nella seconda prima il parroco di fatto, poi degli ure comunque in totale per dieci anni e adesso qui ormai ho quasi spento l'ottava cannerina, quasi, a sermonire. Ci sono persone tranquille, Tu stai dieci anni, predichi, cosi, te ne inventi tutti i colori, tu te ne vai ed erano esattamente uguali a quando tu sei arrivato. Proprio tetragoni. Poi ci sono quelli che si sono, che invece sono proprio fuggiti. Poi sono quelli che ti hanno schernito, ti hanno diffamato. E quei pochi che ti hanno ascoltato erano quelli che stavano con piede dentro e due fuori, quindi pasporaticamente, quindi è così. Giuda si scoraggia. Sapete che, ve lo dico, ci sono ancora un pochino di buoni sacerdoti in giro, solamente tra quelli giovani per cui pregate per loro, che a trovarsi e scontrarsi oggi con certi ambienti ecclesiali cadono per scoraggiamento, per sconforto, per sfiducia, perché non tutti hanno una tempra capace di reggere questi impatti. Chi è debole crolla e quando uno crolla più o meno di migliori possono uscire tante cose che comincia a fare la doppia vita o che lascia il sacerdotio senza fare la doppia vita sia più coerente. Queste chiaramente non sono delle cose fatte bene, no? Però però Gesù scoraggia e incoraggia Giuda evidentemente a non scoraggiarsi dicendogli guarda non ti sconfortare tu pensi che a me vada molto meglio per esempio se uno legge l'opera vedrà che tante giornate di Gesù si concludevano con mazzate dovunque si girano mi ricordo ci stavano degli episodi oggi il padre ci ha benedetto perché noi siamo riusciti a parlare con quello e abbiamo seminato questa cosa buona abbiamo fatto un'opera buona per i poveri e ci accontentiamo le difficoltà della vita apostolica Gesù dice sono le lotte dell'apostolato più sconfitte che vittorie questo bisogna metterselo bene in testa attenzione però sconfitte qui nel senso che tu dici ho faticato tanto ma non ho raccolto tanti frutti no ma nel cielo sono tutte vittorie perché il padre vede la tua buona volontà e anche se questa non riesce di bene dice lo stesso Sant'Affonso Maria dei Liguori su questa dottrina era proprio un maestro assoluto dice guarda che se tu ti metti a fare un'opera buona Dio non guarda il risultato guarda se tu l'hai fatta come l'hai fatta e perché per chi l'hai fatta e addirittura lui aggiungeva se un'opera buona che tu ordinariamente fai un giorno non la fai non perché per negligenza ma perché non hai potuto perché sei stato in qualche modo impedito Dio te ne dà il merito come se l'avessi fatta quindi è ovvio che per pensare in questo modo noi dobbiamo stare imparare a vivere sotto lo sguardo di Dio anche noi preti perché capite nelle intenzioni io posso per esempio predicare fare tante iniziative apostoliche al fine di sentirmi gratificato cioè perché le persone dicono ma che bravo ma quanti bei lavori che fa questo par ma quante iniziative che fa questo par che bello che si preoccupa di noi queste sono cose del tutto secondarie e accidentali perché le iniziative si fanno per amore di Dio ovviamente anche delle anime ma se tu lo fai per amore di Dio se le tue iniziative non hanno seguito il successo sei contento lo stesso perché non l'hai fatto per averne un riscontro umano e una gratificazione umana ma l'hai fatto per amore di Dio lo devi fare e si fa non funziona e questo non dipende da me questo dipende da altri fattori che non stanno nelle mie mani fine inanzi a questi incoraggiamenti di Gesù attenzione cosa sempre accentua al Signore il Padre vede la tua buona volontà sempre questo ho già detto altre volte che nell'opera di Medvedì Valtorta Gesù insiste in maniera proprio martellante diciamo così sulla buona volontà la buona volontà la buona volontà la buona volontà perché senza quello non si va da nessuna parte l'ho già detto tantissime volte molta gente contatta scrive ma sai su questo problema cado sempre questo peccato ma che come posso fare ad uscirne ma figlio mio che ti devo dire cosa vuoi che ti dica i modi per uscire da un peccato sono sempre gli stessi non è che ci sono altri sistemi uno la volontà ferma volontà di non peccare risoluzione sei tu che decidi io questa cosa non la faccio non la voglio fare più ma non è così a casaccio o a belleità no no una ferma risoluzione ferma siccome siamo deboli potrebbe durare due giorni e poi cominci a far peggio di via preghiera preghiera perché questa cosa sia corroborata sostenuta dal cielo e terzo fuga dalle occasioni che anche questo è un atto della della volontà perché mettersi nell'occasione prossima di peccato è un atto della volontà se una persona c'è il dizietto delle delle prostitute è chiaro che se esce in macchina e sa che ci sono delle vie frequentate dalle prostitute ma che cosa deve fare non ci deve passare per quelle vie è a malungo di 4 km ma fossero pure 4.000 non ci passi non ci passi fino a quando non stai completamente fuori quindi sai sei uscito e sai che ti puoi dominare prima no di avere quest'umiltà perché chi ama il pericolo dicono i libri sapenziali in esso perirà il pericolo si fugge si scappa non è codardia è santità questa qui non è un discorso saggio lo devi affrontare no no tu te ne devi andare te ne devi andare dall'occasione di peccato devi fuggirla e attenzione a giuda che gli chiede oh ma quanto sei buono ma io non diverrò mai che cosa risponde gesù e così questo ci fa anche capire come non esiste il destino giuda non era predestinato a diventare quello che è diventato attenzione questa è una bestemmia proprio di giovanni calvino fondatore del calvinismo poi come dire sfociato in quelli che oggi sono i cristiani evangelici si se lo vorrai e ha detto si se lo vorrai c'è quel se se lo vorrai non si se Dio vuole non gli risponde si se Dio vuole perché Dio vuole che tu diventi buono non c'è non c'è nessunissimo dubbio ma bisogna vedere quello che vuoi tu e la prova che tu lo vuoi ecco non è sì in questi giorni sono riuscito a superare le appetitive pensando a te bene questo è un buon inizio ma non basta persevera allora gli dice Gesù tu mi dai tanta gioia vedete come come lo incoraggia ma senza costanza e perseveranza io questo l'ho detto fino alla nausea non si sa quante volte tra catechesi meditazioni omevie senza costanza e perseveranza non si va da nessuna parte ripeto per l'ennesima volta per i nuovi spettatori per chi non mi conosce la famosa frase di Padre Pio la fede non è di chi bene comincia non è di chi va avanti per un certo tempo ma di chi persevera fino alla fine questo è il punto e questo è il banco di prova della reale buona volontà perché la reale buona volontà è ferma nel bene non va un po' qua e un po' là ecco questo è il primo punto su cui ci fermiamo adesso andiamo avanti la visione riprende in una sosta del cammino e io ti dico maestro che sono più buoni gli umili questi a cui mi rivolsi ebbero derisione o non curanza o i piccoli di iuta Isacco parla Gesù sono tutti a crocchio sull'erba del margine fluviale Isacco pare di reso conto delle sue fatiche Isacco per chi non lo sapesse era uno dei pastori di quelli che adorarono Gesù bambino in Betlemme Giuda interviene e caso raro chiama a nome il pastore lui generalmente è venuto sprezzante verso questi qui perché se erano la feccia no? lui era il nobile il grande del tempio Isacco io penso come te perdiamo tempo e fede al loro contatto io ci rinuncio io no risponde Isacco ma ne soffro rinuncerò solo se il maestro lo dice sono abituato da anni a soffrire per fedeltà alla verità non potevo mentire per ingraziosirmi i potenti e sai quante volte vennero per burlarsi di me nella mia stanza di infermo promettendomi oh certo false promesse aiuti se avessi detto che avevo mentito e che tu Gesù non eri tu il neonato salvatore ma io non potevo mentire mentire sarebbe stato rinnegare la mia gioia sarebbe stato uccidere la mia speranza unica sarebbe stato respingerti oh signore mio respingere te nel buio della mia misera nello squalore della mia infermità avevo sempre un cielo sparso di stelle il volto di mia madre unica gioia della mia vita di orfano il volto di una sposa che non fu mai mia e alla quale serbai l'amore è anche oltre la morte queste le due stelle minori e poi due stelle più grandi pari a purissime lune Giuseppe e Maria sorridenti ad un neonato e a noi poveri pastori e fulgido al centro del mio cuore il volto tuo innocente soale santo 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 non potevo respingere questo mio cielo non volevo levarmi la sua luce che più pura non ci è la vita piuttosto avrei respinto e fra i tormenti che respingerti mio ricordo benedetto mio Gesù neonato Gesù posa la sua mano sulla spada di sacco e sorride Giuda parla ancora e allora tu insisti io insisto oggi domani e domani ancora qualcuno verrà quanto durerà il lavoro non so ma credi basta non guardare avanti né indietro fare giorno per giorno e a sera si è fatto se si è fatto con utile dire grazie mio Dio se senza utile dire spero nel tuo aiuto per domani sei saggio vedete obietta obietta risponde Giuda non so neppure che cosa voglia dire ciò ma faccio nella mia missione quello che ho fatto nella mia malattia quasi 30 anni di infermità non sono un giorno eh lo credo io non ero ancora nato e tu eri già infermo c'è sempre Giuda dal che se mi posso permettere subito ci fa capire la sua età abbastanza giovane più giovane di Gesù San Giovanni era ancora più giovane San Giovanni era veramente un ragazzo era intorno ai 18-20 anni quando si è aggregato al gruppo costodico ma Giuda non era molto molto più grande 26-27 forse 28 anni non di più bellissimo un bellissimo uomo a come la ultima di la torta intelligente eppure colto ce l'aveva tutti allora ero infermo ma non li ho mai contati quegli anni non ho mai detto ecco torna Nisam ed io non riferisco con le rose ecco torna Tiseri ed io ancora qui languo andavo Nisam e Tiseri perché non lo sapesse sono due dei nomi ebraici tanto per la cronaca Nisam è il mese di aprile è un mese molto importante per il calendario e anche per noi perché a Nisam certamente c'è stata la passione la morte di Gesù probabilmente tra l'otto e il dieci di Nisam come paghiano concordare non pochi esegeti andavo avanti parlando a me e ai buoni di lui con la L maiuscola quindi di Gesù mi accorgevo che gli anni passavano perché i piccoli di un giorno venivano a portarmi i loro dolci di nozze e quelli delle nascite dei loro vicini ora se guardo indietro ora che sono da vecchio tornato giovane che vedo nel passato? nulla è passato nulla qui dice Gesù ma in cielo è tutto per te Isacco e quel tutto ti attende parlando poi a tutti gli esorta ad andare avanti senza avere mai stanchezze e frette che provengono dalla superbia umana e gli invita a considerare come il creato è proprio dire dell'uomo il piano della redenzione tutto ciò che viene da Dio siano avvenuti nella gradualità e nell'ordine ecco qui facciamo una bella sosta cominciando proprio da queste considerazioni di passaggio che sono fondamentali la fretta così come la stanchezza sono manifestazioni di superbia umana consentita perché? perché chi ha fretta non è che il mondo sta aspettando a te che arrivi e converti mezzo mondo ci vuole il tempo ci vuole il lavoro ci vuole la preparazione ci vuole come dire soprattutto la creazione delle condizioni per cui il lavoro sia pregondo cioè preghiera 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 sacrifici 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 penitenza 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 va a vedere il santo curato d'Ars cioè si che ha convertito Ars ma Ars ha cominciato a convertirsi dopo circa dieci anni che lui stava lì dopo i primi anni che il deserto lui non si è scolaggiato è andato avanti è andato avanti è andato avanti è andato avanti stava le ore in chiesa il breviario le penitenze eroiche che faceva le conosciamo le preghiere eccetera eccetera e poi piano piano ha cominciato a raccogliere i frutti funziona sempre così e Gesù spiega le opere di Dio la redenzione quanto tempo ci ha messo a venire la redenzione dal peccato originale sono passati millenni millenni secondo la cronologia biblica oltre 4.000 anni passando per sacco di storie pensate per esempio la storia di 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 dell'antico testamento Abramo Isac e Giacobbe stiamo poco poco dopo il diluvio dopodiché questi scendono in Egitto e si fanno 500 anni 500 anni sono tanti 500 anni fa era il 1524 era stata da poco scoperta l'America stavamo in piena crisi luterana 1517 non c'era ancora stato il concilio di Trento e questi sono stai 500 anni in Egitto e le promesse erano state fatte a Abramo quindi cioè su questo noi dobbiamo essere molto attenti anche oggi molta gente io sapete chiamo sempre fare delle per i liami di attualità perché se no questa è una via conferenza che non serve a niente ma perderlo il carattere il carattere catechetico che è sempre quello che deve essere prevalente in un lavoro come quello che il Signore sembra che mi abbia chiamato a fare no il Signore non ritarda nell'adimpiere le sue promesse ma ha i suoi tempi io anche scherzando nei giorni scorsi siamo stati a sopra l'ingrenaggio bellissimo a Castelpedroso e a Anciano lì a Castelpedroso c'è la Madonna addolorata e commentando un pochino sta già online insomma il discorso della Madonna addolorata che poi lì la Madonna si è presentata come addolorata e non ha detto neanche una parola ha parlato attraverso i gesti ha parlato attraverso il silenzio tra le tante cose che dice i tempi che stiamo vivendo a volte come dire altro che scolaggiamento e stanchezza no uno veramente il Signore ma mia quando ci mettiamo a punto tutte ste robe qui intervieni perché noi da un punto di vista umano per come c'è il degenero adesso in giro possiamo fare ben poco qualcosina ma stiamo sotto la promessa della grande apparizione di Fatima alla fine il mio cuore immacolato trionferà e magari ogni tanto diciamo mamma mia quando ti rionfa sto cuore immacolato che altre dovremmo vederne insomma in giro no che uno magari ci abbia un attimo un momento se è un momento di umana debolezza vabbè ci augure sta purché sia un momento sporadico e passeggero perché altrimenti dopo diventa un problema cioè le opere di Dio avvengono nella gradualità nell'ordine soprattutto nel tempo e abbiamo celebrato da poco da poco l'ascensione ricordate cosa ha detto il Signore prima di ascensione quando gli hanno chiesto è questo il tempo in cui ricostituirà il Regno di Israele che risponde Gesù non aspetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato la sua scelta ma avrete forza dallo Spirito Santo quindi ok questo è un punto focale fondamentale e qui nel paragoco che abbiamo appena letto il pastore Isacco racconta le sue storie di fallimenti apostolici quindi per quanto lui cercasse in qualche modo di evangelizzare quindi di dire alle persone che il Messia era presente ha incontrato innumerevole difficoltà storie no tanto è vero che Giulia gli dice vabbè ma basta ma lascia perdere no no io lascio perdere soltanto se il nostro Signore mi dice lascia perdere se no vado vado avanti questa è anche un'altra bella norma per un buon pastore non ti si tira nessuno e vai avanti vai avanti e avanti lo stesso non ti si tirerà nessuno fino alla fine vai avanti lo stesso ricordando le parole di Gesù nulla qui ma in cielo è tutto scimacomiso sono stato per dieci anni in parrocchio ho predicato dei banchi quale ricompensa in Europa che ha presso il Signore quale ricompensa come se avessi predicato a centomila persone uguale uguale ecco perché è così importante fare le cose per lui e vivere sotto la sua santa e divina presenza no e qui è importantissimo riprendere prima di andare avanti il consiglio dato dal pastore Isacco a Giuda quanto durerà il lavoro gli chiede Giuda non so ma credi basta non guardare né avanti né indietro fare giorno per giorno e se a sera si è fatto con utile dire grazie mio Dio se senza utile dire spero nel tuo aiuto per domani ma che bellissime norme di vita tanto è vero che anche a Giuda esce fuori un sei saggio no bene allora ritorniamo dopo il sommarietto dove Gesù aveva appena spiegato che le opere di Dio avvengono nella gradualità e nell'ordine allora Giuda interviene ma allora quando sarai conosciuto da chi Giuda dice Gesù ma dal mondo dal mondo se ti dà la risposta di Gesù mai mai dice Giuda ma non sei il salvatore lo sono risponde Gesù ma il mondo non vuole essere salvato il mondo non vuole essere salvato adesso vedremo che cos'è il mondo solo nella misura da uno a mille mi vorrà conoscere sentite e nella misura da uno a diecimila mi seguirà realmente qui amici amici vi leggerò adesso un brano lo vedo subito Gesù precorre San Luigi Mario che nella lettera agli amici della croce dice proprio che gli eroi quindi quelli che seguono veramente Gesù sul cammino della croce sono uno su dieci stesso numero ci divertiamo un po' lo vado a trovare al volo la citazione perché è veramente una bella coincidenza no? guardate lo trovo subito perché grazie alle edizioni digitali è abbastanza facile guardate vedete come i grandi santi vanno sempre d'accordo con gli insegnamenti del Signore no? allora quando commenta questo bellissimo test io raccomando la lettura della lettera agli amici della croce no? il se qualcuno vuol venire dietro a me sentite cosa dice se qualcuno non dice se alcuni per indicare il piccolo numero degli eletti che vogliono divinare conformi a Gesù croce e Cristo portando la propria croce è un numero tanto e tanto piccolo che se lo conoscessimo verremmo meno dal dolore tanto piccolo che appena se ne può contare uno su diecimila stando a rivelazioni fatte a diversi santi come ad esempio San Simone Stilita riferite dall'abbate San Dio da Sant'Efrem da Sant'Esilio e da altri quindi questo che Gesù qui ha detto lo ha rivelato attraverso rivelazione privata a questi santi e l'ha fatta arrivare fino a Stilgium forte solo nella misura da uno a mille mi vorrà conoscere e nella misura da uno a diecimila mi seguirà realmente quindi se da uno a mille lo vogliono conoscere quindi vuol dire che su dieci che vogliono conoscere Gesù uno lo segue questi sono i numeri ripeto qui questa è una rivelazione privata però sono andato per forza a leggere uno scritto di un santo perché lo scritto di un santo non è una rivelazione privata è lo scritto di un santo che chiama in causa testimonianze di santi quindi questo numero è attendibile è un numero che lascia pensare che lascia diflettere vuol dire penso al mio canale di youtube che c'è quasi 60.000 iscritti 6 discepoli di Gesù ci sono qui veri discepoli di Gesù uno su diecimila anzi manco sei stiamo a 5,9 perché stiamo ancora a 59.000 se non ricordo mai tra poco se arriviamo a 60.000 facciamo il sesto discepolo quindi mi raccomando impegno per i miei fatemi fare una battuta adesso impegno per i miei followers di incrementare un po' sto numero se no ecco tutto sto pandemone tutta la fatica ma è così il lavoro apostolico è così quindi anche qua e quando ci stanno i plebisciti le folle oceani cioè amici miei ragioniamo sempre un po' dove stanno le folle oceaniche quali sono i fenomeni che radunano le folle oceaniche un dittatore per esempio pensiamo a tutti i dittatori nel corso della storia è vero che facevano la propaganda e reprimevano i dissidenti si occulcavano la libertà si quindi molti andavano da loro per forza certamente ma guardate che la maggioranza hanno andato da loro per forza tutti i dati contenti e gasati non serve andare a vedere i filmati degli istituti luce o a della Germania per vedere che i deliri di massa che succedevano con i discorsi del luce o di Hitler ma anche di Stalin ma anche di Gheddafi tanto per fare qualche nome no? oppure altri fenomeni tipo gli spopolamenti ai concerti di certi cantautori noi non siamo il popolo dei grandi nomi il cristianesimo non si è diffuso in questo modo sempre attraverso stenti cose numeri piccoli che poi piano piano si vanno ingrandendo ma sempre gradualmente piano piano quindi cioè quindi facciamo anche attenzione anche a certi capite certi personaggi un po' istrionici certamente con spirito leader che anche nel mondo del cristianesimo in cui parlo del mondo in senso allargato come dire fanno breccia come dire a carattere un po' quasi plebiscitario a volte no? io personalmente già quello di per sé non è un buon segno perché non c'è la firma della croce d'accordo? un'opera di Dio c'è sempre la firma della croce sempre sono nella misura da una a mille mi vorrà conoscere e nella misura da una a diecimila mi seguirà realmente quindi dice Gesù ma dico ancora molto e dico ancora molto aggiungo non sarò conosciuto neppure dai miei più intimi terribile e Giuda obietta ma se ti sono intimi ti conosceranno e Gesù si giura mi conosceranno come Gesù l'israelita Gesù ma non mi conosceranno come quello che sono quello che sono è quello come io scuola come colui che sono quindi come come Dio in verità vi dico che non sarò conosciuto da tutti i miei intimi conoscere vuol dire amato con fedeltà e virtù capite questa è la vita eterna conoscere il conoscere di San Giovanni no non hanno conosciuto nemmeno il padre eccetera eccetera no conoscere vuol dire amare con fedeltà e virtù c'è un salmo che dice scomparsa la fedeltà tra i figli degli uomini dobbiamo essere fedeli al Signore sempre fedeli a lui fedeli alla sua parola fedeli alla verità fedeli alla parola data gli abbiamo promesso di seguirlo abbiamo rinnovato le nostre promesse battesime al giorno della cresima e allora bisogna essere fedeli a quelle cose che abbiamo detto si rinuncia a Satana e al peccato non è che rinuncio a corrente alternata e virtù i cristiani si riconoscono dalle virtù che hanno ricevuto in dono tutte con la grazia battesimale ma che poi devono coltivare far fiorire praticare esercitare se no quello non si fanno da soli dicevano i giorni scorsi durante il peregrinaggio diffidate di chi dice che ci pensa Gesù fa lui le cose in noi senza di noi no Gesù fa le cose pensa alle cose fa le cose che noi non possiamo fare che non sono alla nostra portata non quelle che sono alla nostra portata pur evidentemente con l'indispensabile aiuto della grazia ma la grazia non è un meccanismo sostitutorio a noi è un aiuto soprannaturale che Dio ci dà per fare le cose che sono alla nostra portata e queste lo sono e vi sarà chi non mi conoscerà e qui Gesù è bellissimo questo particolare Gesù ha la sua mossa di rassegnato sconforto che sempre ha quando annuncia il futuro tradimento apre le mani e le tiene così volte all'infuori con il volto accorato che non guarda negli uomini nel cielo ma solo il suo futuro destino di tradito oggi abbiamo gli sticker io faccio tante volte pazienza che voi va no un gesto tipico di Gesù ma è Volta Orta tra le varie cose ce ne consegna diversi questo gesto che facevamo molto spesso e un altro molto bello è come pregava Gesù lui si metteva seduto un po' con la schiena curva appoggiava i gomiti sulle cosce stringera le mani e mettia la testa o sulle dita oppure a volte con le mani chiuse dentro le mani in quella posizione si rimane anche diverso tempo bello possiamo un po' prendere un pochino di esempio quindi non guarda con il volto accorato che non guarda negli uomini nel cielo ma solo il suo futuro destino di tradito non lo dire maestro supplica Giovanni ma noi ti seguiamo per sempre per sempre più conoscerti dice Simone e a lui fanno cosa i pastori come una sposa ti seguiamo qui è Giuda che parla e ci sei più caro di essa più gelosi di te che di una donna noi siamo noi ti conosciamo già tanto che non possiamo più misconoscerti e lui e Giuda indica esanco dice che rinnegare il tuo ricordo di neonato sarebbe stato per lui più atroce di perdere la vita e non eri che un neonato noi ti abbiamo uomo e maestro noi chiudiamo e vediamo le tue opere il tuo contatto il tuo alito il tuo bacio sono la nostra continua consagrazione e la nostra continua purificazione solo un satana potrebbe rinnegarti dopo essere stato il tuo intimo è vero Giuda ma mi sarà guai a lui sarò il suo giustiziere esclama Giovanni di Zebedeo no dice Gesù lascia al padre la giustizia sia il suo redentore il redentore di quest'anima che tende a satana questo è un punto molto importante questo qui perché ogni tanto ci viene un pochino la voglia di fare i vendicatori della notte o i giustizieri la giustizia bisogna sempre lasciarla al Signore per quanto sta in noi le anime sono sempre anime da redimere anche se sono inconvertibili lasciamo fare a Dio quello che è di Dio ecco per vedere i paradossi Giuda va a fare la profezia su se stesso solo un satana potrebbe rinnegarti dopo essere stato tuo intimo esatto esattamente ma vi sarà vi sarà e sappiamo bene chi sarebbe stato che veramente è impressionante però questo era uno dei momenti up sì di Giuda dove Giuda dicendo queste cose le diceva credendole qui ha detto una cosa senza saperlo ha fatto una profezia su se stesso che ovviamente il padre ha confermato il padre scusate Gesù ha confermato è vero Giuda ma vi sarà bene anche oggi come la volta scorsa il capitolo non era lunghissimo quindi possiamo chiudere questa conversazione carichesi leggermente più breve rispetto agli standard come anche del resto quella della precedente ma così è inutile leggere un altro paragrafo molto molto impegnativo che ci porterebbe ben oltre dei limiti consentiti anche se un pochino dilatati da una catechesi vi benedica Mischi e la Santa Vergine sempre vi protegga